L'iPhone è sempre di più una console. Prendi l'iPhone, è un joystick, e adesso rendi visibile il tuo joystick. Collegalo al tuo iPhone e guarda questa nuova funzione. Apri le impostazioni e guarda qui cosa c'è. Controller per videogiochi. Da qui potrai vedere un sacco di funzioni fichissime. Tipo la batteria rimanente e soprattutto avrai la possibilità di aggiungere i tuoi giochi compatibili con il controller e settarli esattamente come vuoi tu. Ci sono tantissime opzioni che puoi modificare. E adesso non resta che duplicare lo schermo del tuo iPhone con la TV e giocare comodamente ai tuoi giochi preferiti. Davvero una figata.